Utilizzo corretto di IPL 10.000+, attenersi alle istruzioni per l'uso e alle avvertenze di sicurezza. Per l'utilizzo la pelle deve essere rasata, pulita e asciutta. 48 ore prima dell'utilizzo eseguire una prova di tollerabilità. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Accendere l'apparecchio. L'apparecchio è pronto per l'uso e impostato sulla potenza più bassa. Il riconoscimento automatico della tonalità di pelle suggerisce la potenza adatta alla vostra tonalità di pelle. A tale scopo, premere contemporaneamente i pulsanti più e meno per due secondi. Posizionare l'applicatore sulla pelle e premere il pulsante di attivazione. Viene visualizzata la potenza calcolata. Durante il controllo, tenere presente anche la tabella dei colori della pelle e dei peli. La potenza può essere adattata manualmente in un secondo momento mediante più e meno. Posizionare l'applicatore sulla superficie della pelle e premere il pulsante di attivazione. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente a contatto con la pelle, poiché altrimenti si accende una luce arancione e l'impulso non viene rilasciato. Dopo ogni impulso luminoso, cambiare la zona da trattare. Non trattare più volte la stessa zona. Applicare uniformemente ed evitare sovrapposizioni. Segni di pressione che permangono sulla pelle per breve tempo aiutano a posizionare l'apparecchio. Se la spia di controllo è rossa, la pelle è troppo scura o abbronzata. Non viene emesso alcun impulso luminoso. Tenendo premuto il pulsante di attivazione, si attiva la funzione flash continuo. Un impulso luminoso viene emesso automaticamente ogni 3 secondi. L'apparecchio può essere utilizzato sul viso sotto agli zigomi, su ascelle, braccia, gambe e inguine, nonché dagli uomini sul petto e sulla schiena. Per un utilizzo più preciso, è possibile applicare l'accessorio di precisione sull'unità luminosa. Spegnere l'apparecchio dopo l'uso. Vi auguriamo ottimi risultati con l'epillatore IPL 10.000 Plus di Boehrer.